Paracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e si impara anche qualcosa di nuovo. Quello di oggi sarà un video speciale, ricchissimo ovviamente, perché andremo a immergerci nel mondo degli spin-off edutainment di Super Mario. Un'idea che mi ronza intorno sin dall'annuncio del nuovo Mario Strikers, perché se all'epoca dell'uscita del primo capitolo del calcistico a tema Mario fece veramente impressione vedere l'idraulico baffuto immerso in un'estetica così tagliente e violenta, allo stesso tempo bisogna ricordarsi che negli anni 90 l'immaginario dell'idraulico italiano veniva appiccicato a dei contesti totalmente random. E quello di software a sfondo didattico è uno di questi e credetemi i risultati sono pazzeschi. Prima di iniziare questa ricognizione però vi invito a farvi crescere i baffi, a mettervi la salopette e a partire verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo da un presupposto. In passato Nintendo, se fiutava un buon affare, non si faceva scrupoli e affidava senza problemi la sua IP più importante e anche a degli sviluppatori che non avevano la più palida idea di come sfruttare il suo potenziale. Ecco quindi quella che viene chiamata la serie di Mario Discovery, un insieme di 5 giochi edutainment sviluppati da The Software Toolworks sotto licenza da Nintendo. Per edutainment si intende quella categoria di software che hanno principalmente uno scopo didattico, ma che nascondono la loro essenza sotto una presentazione da videogame. Insomma, una trappola per ragazzi che, convinti di giocare videogames, si ritrovavano praticamente a scuola. Nei primi anni 90 però questo genere stava letteralmente esplodendo grazie a serie di successo come Carmen Sandiego e Matt Blaster e Nintendo non poteva di certo farsi scappare l'occasione di capitalizzare su questo settore che ancora non aveva aggredito. Ecco quindi 5 giochi della Mario Discovery che sono uno meglio dell'altro. E partiamo proprio dal primo di tutti, ovvero Mario is Missing, uscito tra il 1992 e il 1993 su DOS, quindi PC, NES e SNES. Il gioco in realtà ricopre una certa importanza storica perché è il primo titolo di Super Mario a vedere come protagonista il fratello Luigi che qui ancora non era stato codificato come un fifone. O Luigi's Mansion ante l'Hitteram, insomma. Nel gioco non bisogna fra l'altro che girare a vuoto per una world map in cerca di artefatti, recuperabili nelle città a scorrimento laterale saltando sopra dei Koopa che non possono danneggiare il giocatore in alcun modo. Un po' in stile avventura grafica, al giocatore è richiesto di capire qual è l'utilità di questi artefatti, riportarli al loro luogo di origine, che sono sempre dei monumenti, e rispondere a delle domande a mod di quiz per dare prova di aver imparato qualcosa. Tutto ovviamente seguendo ambientazioni reali e avvenimenti storici. Lento, ripetitivo, dispersivo e senza alcun tipo di sfida, il gioco fu letteralmente disprezzato sia dalla critica che dal pubblico dell'epoca. Ma la cosa interessante è che le tre versioni disponibili sono tutte radicalmente differenti tra di loro, sia a livello di grafica, dove quella NES è ovviamente la più carente delle tre, che a livello di trama. Infatti, prendete l'incipit. Mario viene rapito da Bowser mentre sta cercando di interrompere il piano del malefico Red de Koopa. Questi si è rifugiato in Antartide perché ha intenzione di far sciogliere i ghiacci del polo per sommergere la terra emersa tramite una gigantesca quantità di asciugacapelli. Tutto normale. Solo che nella versione NES l'idraulico viene rapito da un Koopa con un sacco, mentre su SNES e PC le cose vanno in modo diverso. Su Super Nintendo Mario allo stesso modo non fa proprio la figura da sveglione, perché prima viene risucchiato da un buco nero mentre fissa il titolo incompleto del gioco, e poi cade in una trappola davanti all'entrata del castello mentre Luigi e Yoshi lo stanno aspettando per entrare. Ma è con la versione PC che si supera veramente il limite. I tre si ritrovano davanti al castello insieme, ma Mario, nonostante gli avvertimenti di Luigi, decide comunque di accettare una caramella da uno sconosciuto. Non si fa, che poi, chi lo avrebbe mai detto, si rivela essere Bowser. Comunque, vorrei farvi notare come su Super Nintendo la grafica tutto sommato sia accettabile, visto il pesante riutilizzo degli sprite presi direttamente da Super Mario World, mentre su PC, nonostante una qualità grafica superiore, i modelli sono allungati, quasi tendenti al realistico, una scelta abbastanza inquietante, non trovate? Il momento migliore rimane comunque la sconfitta di Bowser su PC, che rimane letteralmente in mutande. Capolavoro. Qualche anno più tardi uscì anche un seguito spirituale di Mario is Missing, ovvero Mario Times Machine, un gioco che prendeva le basi gettate dal predecessore, ma che non riusciva in nessun modo a costruirci sopra un gioco degno. Questa volta c'è effettivamente più gameplay, ma non per forza può essere considerata una cosa positiva. La risoluzione dei quesiti finali ora richiede anche maggiore attenzione e partecipazione da parte del giocatore, ma il processo di apprendimento e risoluzione degli enigmi rimane comunque estremamente tedioso. La trama in un certo senso, e anche per fortuna, è più standard. Bowser ha utilizzato una macchina del tempo per rubare numerosi artefatti della storia dell'uomo, per rendere il suo castello un prestigioso museo e atterrare così per sempre il fato dell'umanità. Sta a Mario a viaggiare nel tempo e mettere una pezza al casino fatto da Bowser, il tutto sempre rispondendo a domande di varie entità su storia, geografia e via dicendo. Un vero divertimento, insomma. Questa volta però le differenze tra le tre versioni sono ancora più marcate. La versione SNES è una sorta di porting ristretto dell'edizione PC e presenta lo stesso downgrade, se così lo possiamo definire, di Mario is Missing, tranne che in un elemento. Nelle sezioni di surf tra un viaggio temporale e l'altro, sì, non fate domande, gli sviluppatori avevano pensato di sfruttare il Mode 7 per dare l'illusione di tridimensionalità a questi segmenti, che risultano invece molto più piatti su PC. Per il resto, in Time Machine, le vibes da avventura grafica si intensificano ulteriormente, solo che nella versione PC la resa complessiva è veramente estragnante. Se l'idea di vedere Mario in una New Dawn City realistica tra personaggi umani non vi ha mai convinto, beh, allora probabilmente non avete mai visto la bellissima pixel art che accompagna Time Machine su DOS. Però c'è da dire che l'interfaccia che sfrutta il mouse vince a mani basse in termini di fruibilità dell'avventura, che su SNES e NES rende tedioso anche solo impostare di volta in volta le coordinate della macchina del tempo. A proposito, la versione NES, e credo non ci sia neanche bisogno di dirlo, è veramente scandalosa, anche se confrontata con i già non proprio eccelsi porting per PC e Super Nintendo. Ad esempio provava ad aggiungere delle sezioni in stile primo Mario Bros, che però purtroppo non facevano altro che rendere ancora più meccanica e tediosa la progressione di gioco. E poi scusate, ma su PC ci sono addirittura tre finali differenti, con addirittura due tipi diversi di game over. Bowser che va in paradiso, oppure Mario che finisce intrappolato nella preistoria. Morale della favola? Studiate, se no fate una brutta fine. E ora arriviamo alla trilogia finale, quella dei Mario's Early Years, composta da Mario Fan with Letters, Fan with Numbers e Preschool Fan. Ma, attenzione, perché in Europa, o meglio in Inghilterra, furono tutti e tre distribuiti con un nome differente, ovvero Mario Teach's Words, Mario Teach's Sums e Mario PlaySchools. Tutti e tre ovviamente furono destinati esclusivamente al mercato inglese furono poi raccolti solo in Nord America in una compilation che racchiudeva i tre titoli in un unico CD. Il concept alla base è estremamente semplice e si rivolge a un pubblico ancora più giovane rispetto a quello pensato per Mario is Missing e Time Machine. Qui abbiamo l'equivalente di un libro didattico reso interattivo, almeno per gli standard dell'epoca. Ad esempio in Teach's Word, titolo pensato per insegnare le basi della lingua inglese, bisogna completare i classici esercizi di lingua, come inserire le parole mancanti, trovare le parole corrette o magari unire diverse parole accomunate da specifiche lettere. Insomma, se non fosse per gli asset di Mario, nessuno ci giocherebbe. Peccato che anche in questo caso i grafici si sono lasciati prendere un po' la mano regalando delle vere perle di pixel art, a metà tra la fan art e il creepypasta. Se non altro, gli effetti sonori erano direttamente presi, ancora una volta, da Super Mario World. Anche se Mario ancora non era doppiato dalla sua voce storica, quella di Martinet. In ogni caso, gli sviluppatori sono riusciti a inserire anche un errore sintattico, così per non farsi mancare nulla. Lo stesso mod si ripete anche in Fun with Numbers e lo si capisce già dalla copertina. Sul serio, può esistere qualcosa di più inquietante di questa roba? Non credo. C'è comunque molto più a livello contenutistico di quanto possiate immaginare, perché in Fun with Numbers vengono introdotti anche concetti rudimentali di geometria. Niente male, eh? Comunque, proprio come nel suo predecessore, la vera star di questa produzione sono le canzoni utilizzate per facilitare l'apprendimento. La versione PC vince su qualsiasi cosa. Guardate la grafica. Pazzesca. E poi, a livello contenutistico, presenta numerosi elementi tagliati nella versione SNES, anche se questa aveva anche Yoshi come personaggio giocabile, oltre a Mario e la principessa Peach. E siamo arrivati alla fine di questa ricognizione con Preschool Fun, titolo che regala le stesse gioie e dolori dei suoi due predecessori, solo che questa volta tratta temi più variegati e di ampio respiro. Rimangono comunque gli sprite orrendi, personaggi materializzati direttamente dagli incubi, mani incredibilmente sproporzionate e via dicendo. Sì, ok, sarà pure una cifra stilistica di software Toolworks, però, insomma, credo che con questa roba siano riusciti a traumatizzare un bel po' di bambini negli anni 90, anche se, indovinate un po', le vendite di questi giochi furono sempre bassissime. Ciò detto, non è che i giochi edutainment siano il male in assoluto. Anzi, mi vengono in mente software come Mario Paint o anche Mario Artist, che all'epoca riuscivano realmente a stimolare la creatività dei più giovani e magari anche a insegnarli qualcosa. Un obiettivo che però i giochi di software Toolworks non sono mai riusciti a raggiungere. Un fallimento abbastanza prevedibile e un tratto comune a tutte quelle produzioni che all'epoca venivano affidate da Nintendo in outsourcing. Eh sì, perché se vogliamo la storia può continuare ancora per ore, ma per questo video io mi fermerei. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo tipo di ricognizioni storiche e se vorreste vedere altri video del genere su titoli altrettanto famosi per i motivi sbagliati. Se il video vi è piaciuto sapete cosa fare, se non vi è piaciuto sapete cosa fare, ma non venitemelo a dire. E niente, l'appuntamento rimane a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposateli, ma soprattutto imparate duro. Io sono il Poro Teaching, Michele Maschin, ciao! Ehi, 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 fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Grazie a tutti! Grazie a tutti!